Penso che i 55 minuti di gara siano stati ottimi da parte nostra, non devo dire niente da richilminare. Poi abbiamo sprecato tutto negli ultimi tre minuti, in sostanza abbiamo buttato via 5 reti di vantaggio praticamente, quindi il ramarico è questo. Portiamo a casa di buono che ce la siamo giocata molto bene, penso, per una buona parte di gara. Peccato per il risultato e lo scadere, guardiamo avanti comunque. Nulla è perduto, quindi andiamo avanti così. La prima partita sicuramente c'è stata molta tensione, siamo stati in tutta la partita sotto, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Sappiamo che comunque tutte le partite saranno difficili e importanti e bisognerà lottare fino alla fine. Ecco, adesso c'è per voi subito un'altra sfida, c'è la sfida contro Lanzara che sarà decisiva per il passaggio del turno. Esatto, domani abbiamo una partita molto importante, se la vinciamo arriviamo primi, però comunque per le stesse squadra troveremo il semifinale, sarà una partita decisiva. È chiaro che dal punto di vista del morale battere Rubiera è qualcosa di importante, intanto perché loro erano imbattuti quest'anno in stagione e poi perché erano due prime che si affrontavano e quindi è sicuramente un segnale positivo per voi. Sì, diciamo che è stato un ottimo inizio. Non abbiamo giocato secondo me benissimo, però ci portiamo a casa questi due punti. Sì, diciamo che è stato un ottimo inizio.